Sono Nikita Kalliu, vivo a Pordenone e frequento il terzo anno del Easy Aroma Design di Pordenone. Io ho scelto questo percorso formativo perché ero interessata ad ampliare le mie conoscenze in merito al design e anche per quanto riguarda il riuscire a fare con mano quello che è il nostro pensiero, quindi trasmettere su carta una nostra idea, un nostro concept. Le materie che maggiormente mi hanno colpito in questo percorso di studi sono stati i laboratori, laboratorio di fotografia e laboratorio di modellistica. In quello di modellistica sono riuscita a trasmettere quello che era il mio pensiero, mediante dei materiali, mediante le mie mani, quindi riuscendo a realizzare da sola quello che era il concept che era all'interno della mia mente, utilizzando materiali svariati quali il legno, la carta o anche il polistirolo. Con laboratorio di fotografia riusciamo a rappresentare al meglio i nostri lavori, i nostri progetti, proprio grazie a tutti gli studi che facciamo nel corso di questi tre anni. Quindi riusciamo a rappresentare i nostri progetti, calcolando bene le proporzioni, e riuscendo a trasmettere quello che è il nostro pensiero, mediante una semplice e pura fotografia. Consiglierei questo corso di studi proprio perché riesce ad aprirti la mente, riesce a far capire alle persone quali sono le cose importanti e come riuscire a comunicare qualcosa che è all'interno della nostra mente.